Musica Biagino Azzori, sindaco di Sini, uno dei tanti paesi dell'Unione dei Paesi dell'Alta Marmilla. Come si inserisce Sini nell'Unione dei Paesi? Sini fa parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla, già dalla sua nascita. Si inserisce in un contesto di un territorio dell'Alta Marmilla che un po', come vediamo, rispecchia quasi tutti i paesi. Ci sono un ambiente caratteristico, un ambiente culinare e quindi anche Sini all'interno dell'Alta Marmilla, con il suo territorio che confina con la Giara, che sappiamo benissimo, famosa per i suoi cavalini, ha delle cose molto importanti da andare a... Quindi chi si può avvicinare all'Unione dei Comuni ha la possibilità di poter passare da un Comune all'altro, passare dei giorni piacevoli dove ogni Comune ha sicuramente qualcosa da offrire, tutti inseriti in un territorio ricco di peculiarità, come il vostro, che tra le varie ricchezze, peculiarità e particolarità è sicuramente quello degli Olivi. Sì, Sini come anche altri Comuni, ma in particolare Sini ha degli Olivi molto antichi, ci sono degli Olivi millenari, che è uno che è proprio un esemplare qua di fronte a noi. Ecco, questo per esempio quanti anni avrà? Più di mille anni. Più di mille anni? Più di mille anni. Portati benissimo? Sì, portati benissimo, quindi c'è tutta una tradizione che è dietro appunto questi Olivi, perché poi vediamo che il Paese come attività, anche l'Olivo è stata un'attività, la produzione dell'olio extravergine di oliva, molto fatta da tantissimo tempo. Quindi tra le varie attività produttive che andremo a conoscere, perché Biagino ci deve accompagnare un po' Persini, conoscerlo da diversi punti di vista, uno dei quali sicuramente è quello che interessa io al mercato, quindi le attività produttive. L'olio di sicuro, vero? Sì, l'olio è un prodotto molto ricercato, caratteristico appunto che viene prodotto qua a Sini, anche nel territorio vicino. Ognuno di voi difficilmente va in qualche grande distribuzione a comprare dell'olio confezionato, insomma, ognuno di voi in un Paese si fa l'olio da sé, vero? Sì, tutte le famiglie hanno degli olivi, quindi la provvista per quanto riguarda la famiglia ce l'hanno tutti. Questo è una cosa molto importante perché alla fine fa in qualche modo anche reddito. Assolutamente sì, e non solo l'olio però, sono anche altre le realtà di Sini, vero? Ma le realtà di Sini, essendo una zona all'interno, sono in realtà agricole e pastorali, cioè ancora si produce, si fa la cenericoltura, i legumi sono molto importanti, i legumi ancora si fa la coltivazione dei ceci e delle fave. Ci sono, oltre a queste attività, c'è appunto l'olivicoltura e la viticoltura, anche se appunto anche il discorso dell'olivicoltura viene fatta e le famiglie la fanno principalmente per la produzione familiare, per il consumo familiare. Però tutte queste... C'è anche chi ancora lavora con sistemi artigianali di un tempo? Ma quasi tutti, ancora lavorano con sistemi artigianali per la produzione e la trasformazione dei prodotti. A Sini abbiamo una buona... si è conservata la cultura del pane, quindi in molte famiglie tutt'oggi periodicamente ogni 15 giorni si fanno il pane in casa e quindi ce l'hanno a loro disposizione sempre. Tutti i giorni buono, di alta qualità? Di alta qualità sicuramente perché vengono utilizzati i cereali prodotti della zona, i cereali anche che sono trasformati in dei mulini a pietra, quindi che conservano le caritistiche vere del grano, quindi è una farina buonissima. E ancora so che producete anche dell'ottimo miele. Sì, Sini ha riscoperto anni fa, nell'85-86, un gruppo di giovani si era costituito una cooperativa tra cui io ero il presidente e ancora sono il presidente. Dove abbiamo iniziato l'attività agricole e tra cui c'era anche l'apicoltura. E' un'attività che ancora viene praticata, è un socio della cooperativa, lo produce in grande quantità e quindi lo mette anche nel mercato sia isolano che nel mercato continente. Quindi vuol dire che noi possiamo venire qui ad assaggiare dell'ottimo olio, ad assaggiare il pane buono fatto in casa dalle signore che utilizzano ancora i metodi tradizionali, possiamo anche assaggiare il miele, possiamo visitare e venire in tutte le salse, possiamo visitare il territorio, ci possiamo venire in bicicletta, in moto, possiamo fare delle lunghe escursioni, possiamo passare qualche giorno in assoluta serenità, ma abbiamo delle strutture ricettive che ci possono accogliere? Sì, ci sono diverse strutture B&B e anche un agriturismo dove appunto le persone possono essere ospitate anche con un servizio completo. Tra l'altro so che in quell'agriturismo ci sono dei salumi ottimi, vero? Sì, sono dei salumi ottimi, del formaggio ottimo, viene prodotto nel sistema tradizionale, quindi sono... Allora guarda, a questo punto non posso che chiederti di farci una bella passeggiata persini, conosceremo durante il nostro lungo percorso nella zona il tuo paese, assaggeremo tutti i prodotti buonissimi. Grazie mille.